Benvenute amiche e benvenuti amici alla nuova puntata di CECAP Obiettivo Salute, l'appuntamento settimanale che Rossini TV dedica all'incontro con i medici della struttura Fisioradi, che vedete alle nostre spalle, siamo nel quartiere di Pismara di Pesaro, incontreremo oggi il dottor Giovanni Ingardia, che è un medico specialista in anestesia e reanimazione, ma la cui esperienza va soprattutto in quello che riguarda la terapia del dolore. Considerate una cosa, che il giuramento di Ippocrate, che è la formula che ogni medico legge il giorno della sua laurea, proprio sul dolore, incentra uno dei suoi argomenti maggiore. Il medico, in poche parole, è deputato alla cura della persona e alla cura del dolore della persona, ma oggi, insieme al dottor Ingardia, tenteremo di capire perché non sempre il dolore è una sensazione negativa, anche se, lasciatecelo dire, fa male. Grazie a tutti. Siamo con il dottor Alessandro Ingardia, che è specialista in anestesia e reanimazione, si è specializzato a Verona, se non sbaglio, dottore. Sì, scuola di specialità di Verona, buonasera. Buonasera a lei. Grande esperto di quello che si chiama terapia del dolore, comunque approccio al dolore. Allora, visto che questa parola spaventa, perché la parola dolore è sicuramente una parola che spaventa in un contesto sanitario, in un contesto in cui ci si trova a doversi confrontare con un medico, capiamo dal dottor Ingardia perché in realtà il dolore, paradossalmente, è una reazione positiva dell'organismo. Certo. Allora, noi dobbiamo sempre differenziare dolore acuto dal dolore cronico. Il dolore acuto è in realtà un meccanismo che ha il nostro organismo di difesa nei confronti dell'evento nocivo e quindi, all'atto pratico, tende ad allontanare l'evento che ha scatenato il dolore e quindi si difende da questo nocevo, diciamo. Il dolore cronico, invece, è un qualche cosa già di più complesso perché il dolore cronico diventa esso stesso malattia. ha una connotazione centrale, quindi non è più un sintomo che interessa i tessuti periferici, gli organi periferici, ma viene centralizzato attraverso il midollo spinale e poi fino al sistema nervoso centrale e diventa un'entità da dover gestire e trattare in maniera molto più complessa e spesso e volentieri combinata con anche altri specialisti che non siano il solo terapista del dolore, ma altre figure. Sì, e non a caso il dottore Ingardia è qui nella struttura Fisioradi di Vismara proprio per questo motivo, perché è una struttura dove sappiamo convergono tantissime competenze mediche, quindi anche questa è molto importante nelle situazioni di riabilitazione, nelle situazioni anche di trattamento. Dottore, l'ombalgia e l'ombosciatalgia, come si trattano? Innanzitutto poi ci sono differenze? Allora, ci sono differenze nate dal fatto, nate dalla collocazione anatomica, diciamo, per cui l'ombalgia è intanto un'entità, è una patologia che interessa il tratto di colonna vertebrale più basso, il tratto lombare, va bene, ma interessa prevalentemente la schiena, quindi i rachide. Spesso e volentieri può irradiarsi anteriormente interessare la parte bassa dell'addome, ma non viene, diciamo, non ha un'irradiazione ad altre strutture come gli arti inferiori. La lombosciatalgia, invece, è un'entità che, diciamo, supera i confini della regione lombare ed è una patologia dolorosa che interessa gli arti inferiori. Quindi si chiama sciatalgia perché interessa il territorio di innervazione del nervosciatico, determinato, che nasce fondamentalmente dalle radici nervose, lombari e sacrali e quindi porta, conduce la sensibilità dolorosa dall'arte inferiore, risale verso il rachide lombare e quindi ha un territorio di competenza molto più ampio perché, appunto, dalla regione lombare va interessa tutto l'arte inferiore. Esatto, infatti questa infiammazione del nervosciatico è un'altra di quelle cose che spaventa ed è anche molto frequente perché dipende proprio da problematiche alla colonna, alla bassa colonna. Ma in questi casi qui, dottore, quando è che noi vogliamo approcciare questa patologia con un intervento solo sul dolore oppure forse ci sono dei segnali che ci dicono che sarebbe meglio andare da qualche altro specialista, spostarsi da un neurologo oppure approfondire? Allora, diciamo che questo tipo di dolore viene connotato come red flag, cioè come bandierina rossa. Quindi quando siamo di fronte ad un problema di lombalgia o di lombosciatalgia dobbiamo sentire questo campanello che ci avverte che il problema non è ovviamente solo il dolore ma dobbiamo andare a ricercare anche che cosa c'è sotto e fare una discriminazione vera fra quello che è la manifestazione acuta del dolore e l'evoluzione cronica dello stesso. Quindi quando noi ci troviamo di fronte ad una lombalgia dobbiamo andare chiaramente a visitare sempre il paziente, fare una curata in amnesi e valutare la vita che fa questo paziente, il lavoro che fa questo paziente, l'attività sportiva eccetera e valutare poi le indagini eventualmente iconografiche come una risonanza magnetica, un attacco o semplicemente una radiografia. una volta che abbiamo individuato la causa che ha condotto allo sviluppo della lombalgia o della lombosciatalgia dobbiamo valutare con l'esame obiettivo e quindi sempre mettere in relazione la diagnostica con la clinica manifestata dal paziente valutare la tipologia di trattamento migliore. Allora se si tratta di una patologia che è solo dolorosa, tra virgolette solo dolorosa perché già il dolore è invalidante per questi pazienti che si presentano nel nostro ambulatorio in ogni caso se il problema è solo il dolore allora lo trattiamo in base a partiamo da una terapia farmacologica e poi via via lo gestiamo con trattamenti medio-invalutati come possono essere delle infiltrazioni, dei blocchi antalgici, spesso e volentieri li facciamo eco guidati o radio guidati per essere più precisi e più puntuali sulla causa che ha provocato il dolore e poi se il trattamento non è efficace si va ad approfondire diciamo con la diagnostica ed eventualmente si invia il paziente ad un ulteriore specialista che può essere spesso e volentieri il neurochirurgo, chirurgo vertebrale o l'ortopedico anche. però il più delle volte il trattamento, sia tutta la presa in carico del paziente, quindi da un punto di vista diagnostico e terapeutico è un trattamento multidisciplinare che può interessare quindi svariate figure, quindi quando si è superato il trattamento antalgico si deve inviare anche necessariamente il paziente a un trattamento riabilitativo e quindi non più solo il terapista del dolore, il neurologo, il neurochirurgo eccetera ma ci sono anche figure come il fisiatra, il fisioterapista che proseguono poi il trattamento nei confronti di questo tipo di patologia che è estremamente complessa da gestire. Certo, sicuramente è difficile, è proprio per voler essere incisivi in conclusione dottore, il trattamento conservativo vero e proprio della terapia del dolore qual è? Cioè come lo trattiamo? Allora trattiamo come dicevo prima, lo trattiamo inizialmente farmacologicamente, se il trattamento risulta insufficiente o il paziente è resistente a questo tipo di trattamento, andiamo ad analizzare la possibilità di fare dei blocchi anestetici o comunque delle infiltrazioni a livello delle faccette articolari vertebrali, quindi delle articolazioni vertebrali oppure per esempio potrebbe essere necessario entrare all'interno del canale vertebrale, fare delle infiltrazioni peridurali oppure fare anche un trattamento neuromodulante e quindi andare ad eseguire delle radiofrequenze, un trattamento in radiofrequenza sulle articolazioni vertebrali e sulla branca mediale del nervo spinale oppure impiantare nei casi estremi di failback surgery syndrome, cioè nel sindrome di fallimento chirurgico, andare ad impiantare degli stimolatori midollari o delle pompe subracnoidee, ma questi sono trattamenti diciamo molto più complessi che vanno trattati in centri di terzo livello di terapia del dolore. Quindi abbiamo un range di trattamento abbastanza ampio, quindi dalla terapia farmacologica, la terapia infiltrativa, la terapia riabilitativa fino ai grandi impianti di stimolazione neuronale, eccetera. Dottore grazie, allora ne usciamo sicuramente con un insegnamento importantissimo che vogliamo trasmettere, il dolore è sempre un sintomo di qualcosa, sicuramente c'è una causa ed è sulla causa che bisogna sempre andare a lavorare, questo vale in generale per tutte le varie patologie. Patologie, dottore grazie per i suoi chiarimenti, è stato davvero molto utile. Grazie a voi, grazie a voi, buonasera, arrivederci. Grazie a voi, grazie a voi.